Beh, io direi che la prima cosa è che dobbiamo prendere atto che il clima sta cambiando. Assessore, continuano i lavori, anche oggi tavolo istituzionale per quanto riguarda l'aria in Lombardia? Assolutamente sì, la guardia rimane sempre altissima, nonostante, devo dire, i risultati che ci ha presentato anche oggi ARPA in qualche modo ci confortano, nel senso che il numero dei giorni di superamento si è notevolmente abbassato ed anche quelle che sono le emissioni relative alle polveri sottili, quindi al PM10, si sono fortemente ridotte, in particolare nell'ultimo anno. In generale c'è un trend decrescente dal 2010-2011 fino ai giorni nostri, quindi nonostante questo comunque l'attenzione di Regione Lombardia rimane altissima e con la Regione Lombardia ovviamente tutti i soggetti coinvolti. Le prossime mosse? Beh, le prossime mosse ci siamo dati stamattina un mese di tempo per raccogliere quelle che sono le riflessioni, in particolare per l'attuazione di una delle azioni previste dal piano per la qualità dell'aria, cioè quella dell'estensione del divieto di circolazione per alcuni veicoli. La settimana successiva al mese, appunto per queste osservazioni, un tavolo tecnico, dopodiché l'obiettivo è di arrivare sicuramente entro l'inizio dell'estate con delle regole certe che dicano già oggi cosa sarà ai nostri cittadini, cosa ne sarà dei loro mezzi da qua a un paio d'anni. Tavolo istituzionale, abbiamo sentito tanti pareri diversi, il difficile sarà metterli tutti insieme? Beh, ma direi che tutti partono da un punto in comune che è quello della necessità di intervenire. Da una parte ci sollecitano ovviamente i controlli e questo è un nostro interesse, forse è difficile da realizzare, insomma, ma ci stiamo lavorando. In generale comunque tutti danno atto dell'attivazione di quelle che sono le azioni della regione Lombardia, quindi non solo parole ma assolutamente dei fatti anche in questo caso. Forse la cosa più difficile è coniugare qualità dell'aria con soldi che devono spendere i cittadini per adeguarsi. È per questo che pensiamo ad azioni che non siano dall'oggi al domani, ma che possono in qualche modo far programmare la vita sia dei privati cittadini che ovviamente di quelli che usano i mezzi per spostarsi per il loro lavoro. Abbiamo pensato anche azioni a sostegno, una tra tutte parte, è solo la prima ma è la più importante, la più immediata, quella dell'esenzione del bollo per chi cambia un veicolo, sostituisce un veicolo inquinante con uno molto meno inquinante. Sono dei piccoli ma importanti passi, pensate solo che l'azione del bollo vale qualcosa come 12 milioni di euro l'anno, quindi è un'azione dal punto di vista economico importante, ma a questa ne seguiranno tante altre. Quello che vogliamo fare è prima di tutto educare e far capire alla gente quanto è necessaria la loro attivazione. Di questo avete parlato non soltanto di auto ma anche dei cammini del riscaldamento a legna che può inquinare. Allora come si dovranno comportare i cittadini? Dal 20 dicembre c'è una nuova direttiva, ci sono delle nuove linee guida in Regione Lombardia. Vi invito a visitare il sito della DG Ambiente, il sito della Regione Lombardia. Ci sono tutti gli estremi. Abbiamo inteso intervenire soprattutto su quegli strumenti, su quelle stufe, su quei caminetti che di fatto non hanno delle prestazioni sufficienti. In particolare, e questo mi preme molto ricordarlo, i nuovi limiti favoriscono soprattutto le stufe e i caminetti prodotti in Italia perché tra pochi, in quelli che sono i produttori in tutto il mondo e anche forse in Europa, i produttori italiani hanno da sempre una particolare attenzione a quelle che sono le emissioni che provengono dalla combustione delle biomasse, che è sempre, ribadisco, pericolosa. Va gestita in maniera intelligente, non è vietata, ma va fatta con un po' di coscienza, un po' di intelligenza.